Chi avrà per prima un bambino? Chi è la più festaiola? Chi è la più gelosa? Chi è la più responsabile? Chi è la più protettiva? Chi è la più spettegola? Chi è la più dolce? Chi diventerà suora? Chi finirà nel tunnel della droga? Chi è la più sincera? Chi è la più corteggiata? Chi è la più studiosa? Chi farà carriera? Chi è la più bella? Chi è la più ansiosa? Chi è la più ansiosa?